Il delitto Pasolini, l'omicidio di Pierpaolo Pasolini, il caso Pelosi, processo e sentenza inutili, artificiali, bugiarti, perché per tutta la tua vita Pierpaolo ha indicato i tuoi assassini, per tutta la tua vita Pierpa, ci hai consegnato l'identichità dei tuoi veri assassini, i signori, i presidenti, i borghesi, i dirigenti, gli onorevoli eccellenti, i fascisti, i monsignori, i moderati. Grazie.